Bene, buonasera a tutti allora. Questa sera parliamo del cosiddetto peccato originale partendo dalla lettura che viene proposta domenica prossima nella liturgia. Intanto ascoltiamo la lettura, grazie. Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo aveva mangiato del frutto dell'albero il Signore Dio lo chiamò e gli disse dove sei? Rispose ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dall'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo, la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna, che hai fatto? Rispose la donna, il serpente mi ha incannata e io ho mangiato. Allora il Signore disse al serpente, poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutte le bestiame, il bestiame, e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò in nemicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Grazie. Bene, abbiamo letto questo brano che è parte del capitolo 3 della Genesi. Il capitolo 3 della Genesi è importante leggerlo assieme al capitolo secondo. Sono entrambi capitolo secondo, capitolo terzo e anche poi il quarto, di cosiddetta tradizione yavista. Adesso non parliamo delle tradizioni yaviste, però vuol dire che hanno un po' lo stesso stile, un po' lo stesso filo conduttore. Per intenderci il capitolo secondo è il capitolo che parla della creazione dell'uomo, che Dio plasma dalla polvere della terra l'uomo e poi gli soffia sulle narici. Poi il capitolo secondo continua dicendoci che costruisce un giardino in Eden e vi mette ogni sorta di pianta e colloca Adamo nel giardino perché lo custodisca e gli dà il comando e mette al centro del giardino l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. E dice ad Adamo tu sei il padrone del giardino, custodiscilo, mangia di tutti i frutti che vuoi, però non mangiare dei frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male. Poi il secondo capitolo continua con la creazione di Eva e poi chiude lì. Il terzo capitolo, prima del brano che abbiamo letto, parla del serpente che incontra Eva e intesse un dialogo che poi sfocia col peccato di Adamo e Eva. Il brano che abbiamo letto è la parte centrale del capitolo in cui c'è, potremmo dire, il processo. Nel capitolo 3 possiamo dividere in tre parti, il peccato, il processo, la condanna. Il peccato è Adamo ed Eva che mangiano dell'albero della conoscenza del bene e del male. Quello che abbiamo letto qui è un po' come il processo e poi c'è la condanna fatta in tre parti, la condanna verso il serpente che l'abbiamo letta, poi invece, non l'abbiamo più letto, la condanna verso Eva e infine la condanna verso Adamo. E poi ci sono alcune cose finali. Questo è solo per fare il riassunto dei capitoli secondo e terzo. Diciamo alcune cose di contorno. Giardino dell'Eden. Cos'è sto giardino dell'Eden? Cos'è? L'Eden è un sostantivo ebraico che significa piacere, delizia. Quindi sarebbe il giardino del piacere, della delizia, il giardino delle belle cose. D'altronde teniamo presente che in paesi molto aridi, come la Palestina, o comunque i paesi dell'Oriente, l'intorno, paesi tutti aridi, i giardini erano una cosa molto, molto di valore, come anche le oasi. Quindi qualcuno pensa che il giardino, sia l'idea del giardino, sia legato a giardini mesopotamici che i re o comunque le persone importanti avevano e intorno a cui venivano costruite le case. E il giardino era la parte più bella, più ricca della casa. E quindi Dio costruisce un giardino per Adamo per collocarlo in un posto bello, il migliore che ci si poteva immaginare. Noi chiamiamo sovente il paradiso. La parola paradiso che noi diciamo vorrebbe dire etimologicamente giardino, perché nell'Oriente, in Persia, c'erano dei giardini che avevano quel tipico nome di paradison. Quindi la parola nostra che usiamo per descrivere il regno dei cieli, paradiso, significa giardino. Quindi potremmo anche dire il paradiso dell'Eden, o paradiso terrestre, come tante volte veniva venuto chiamato questa situazione di Adamo e Deva prima del peccato. Eden, dov'è questo giardino dell'Eden? Non sappiamo assolutamente, è facilmente un posto inventato, è un posto così generico, molti lo collocano tra i fiumi tigri d'Eufrate, d'altronde nel capitolo secondo che non abbiamo letto, dopo che si parla del giardino, si parla che dal giardino sgorgono quattro fiumi, di cui due dei fiumi citati sono il tigri e l'Eufrate, poi ce ne sono altri due con nomi di fantasia, ma il tigri e l'Eufrate sono quelli citati, e quindi c'è chi suggerisce che questo giardino dell'Eden fosse in quella zona fertile della Mesopotamia, tra i due fiumi, Mesopotamia vuol dire proprio terra tra i due fiumi. In questo giardino ci sono tanti alberi, ben venga, ci sono poi questi due alberi particolari al centro del giardino, uno il giardino della conoscenza del bene e del male, e l'altro l'albero della vita. E qui le domande sono tante, che alberi sono? Che senso hanno? E le risposte, le domande sono tante, le risposte come solito sono poche, e a volte anche incerte. Dell'albero della vita se ne parla pochissimo, se ne parla pochissimo, si parla dell'albero della vita in un accenno nel secondo capitolo, dove si dice che Dio piantò il giardino, al centro l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Dell'albero della vita se ne parla poi dopo del peccato originale, dove viene detto, dopo la condanna, nelle parti finali del capitolo 3, si dice guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Quindi dopo che Adamo e Eva hanno preso dell'albero della conoscenza del bene e del male, Dio dice non devono prendere anche dell'albero della vita se no vivrebbero per sempre e quindi li cazza dal paradiso terrestre e mette i cherubini a difesa dell'ingresso del paradiso terrestre. E quindi Adamo e Eva e poi tutta la discendenza umana non ha più accesso a questo giardino. Cos'è l'albero della vita? Ma c'è l'idea che Adamo e Eva di per sempre sono stati creati immortali, l'idea è che erano stati creati immortali, poi invece la morte è una delle conseguenze del peccato. Difatti noi non abbiamo letto la condanna di Adamo ma nella condanna di Adamo si scrive viene scritto così All'uomo disse poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non devi mangiare maledetto è solo per colpa tua con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita spini e cardi produrrà per te e mangerai l'erba dei campi con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non ritornerai alla terra ritornare alla terra è un eufemismo per dire morire, ritornare alla terra perché da essa sei stato tratto polvere tu sei e in polvere ritornerai quindi la vita è in contrapposizione alla morte e l'idea di vita è molto pregnante nella Bibbia sovente Dio si presenta in tante pagine dell'Antico Testamento come il Dio dei viventi come il vivente il vivente anche in contrapposizione polemica contro i Baal di turno o le divinità dei popoli all'intorno che dalla Bibbia vengono condannate le divinità dicendo che questi sono dei morti invece Yahweh è il Dio dei viventi soventissimo viene citato come il Dio dei viventi dell'albero della vita citato queste due volte poi non se ne parla più c'è qualche accenno nei proverbi ma in forma generica c'è poi due o tre accenni invece più interessanti nel libro dell'Apocalisse quindi dell'albero della vita se ne parla nella Genesi e poi se ne parla nell'Apocalisse leggiamo due o tre frasi dell'Apocalisse l'Apocalisse sapete che per esempio si si apre al capitolo secondo terzo con le lettere alle varie chiese e la prima di queste lettere è la chiesa di Efeso conclude la lettera alla chiesa di Efeso capitolo 2 versetto 7 chi ha orecchio che ha orecchio ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio nel giardino di Dio paradiso e giardino sono due sinonimi quindi è bella questo accenno l'albero della vita come dire i cristiani sono chiamati alla vita alla vita per sempre alla vita eterna l'albero della vita poi viene citato nel capitolo finale dell'Apocalisse dove il capitolo finale dell'Apocalisse descrive la nuova Gerusalemme descrivendo la nuova Gerusalemme si parla della città ha dodici porte questo e quell'altro si parla della piazza della città leggo e in mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trovava l'albero della vita che fa fa dodici frutti dodici frutti perché dodici sono i mesi che fa dodici frutti e che porta il suo frutto ogni mese se gli alberi fanno frutti un mese all'anno o due massimo invece questo l'albero della vita fa frutti tutti i mesi e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni sempre l'Apocalisse ancora un po' più avanti nel capitolo 22 dice quasi come dire non togliete nulla da questo libro sono le frasi finali un po' di come dire rispettate questo libro tutto va letto tutto va conservato e c'è scritto in negativo e chi toglierà qualche parola di questo libro profetico Dio lo proverà dell'albero della vita e della città santa che è Gerusalemme descritti in questo libro come dire non avrà accesso alla vita e non avrà accesso al paradiso l'albero della vita di più non si sa di più non si sa bene di questo albero non si sa neanche bene perché lì qui ci sia perché poi alla fine non ha nessun ruolo sto albero della vita però c'è ed è presente sull'albero della vita non c'è nessun comando di Dio nei confronti di Adamo e Deva avrebbero potuto mangiarne e restare immortali l'altro albero è l'albero della conoscenza del bene e del male l'albero della conoscenza del bene e del male si trova anche questo nel centro del giardino e su questo c'è il divieto c'è il divieto dato ad Adamo e poi chiaro stesso ad Deva chiaramente di non mangiare dei frutti di questo albero intanto perché albero della conoscenza del bene e del male qualcuno dice ma riconoscere il bene e il male vuol dire riconoscere tutto quindi ci sono degli esegeti che direbbero quasi l'albero della conoscenza potremmo dire sarebbe quasi l'albero dell'onniscienza l'albero del voler sapere tutto le persone umane hanno il desiderio di conoscere questo è assolutamente positivo abbiamo sbagliato quando ci siamo creduti onniscienti oppure qualche tiranno qualche personaggio che adesso non voglio citare esempi ma potete immaginare anche voi quando uno si crede che ha sempre ragione solo lui ha ragione e qui comincia il cascarl'asino insomma l'onniscienza non è nostra sarebbe importante sempre mantenere l'umiltà di di ascoltare gli altri e di comprendere dagli altri di imparare dagli altri quando uno si crede di sapere tutto lui è già rovinato l'albero della conoscenza del bene e del male e quindi è quello l'albero da cui dove Adamo ed Eva peccano la domanda è che albero era la tradizione nostra più occidentale lo fa diventare l'albero del melo e di fatti tanti pittori mettono Eva e Adamo che mangiano la la mela però nella Bibbia non è specificato che albero sia l'assonanza l'avvicinare l'albero della conoscenza del bene e del male con l'albero di melo è una cosa mediovale perché in latino c'è un'assonanza tra malum e che è male e melum che è mela o melo e quindi nel medioevo per via del latino che si usava che quindi c'entra niente col greco c'entra niente con l'ebraico si è si è arrivata si è arrivata questa assonanza si è arrivata questa assonanza del 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 melo col male e quindi Adamo ed Eva hanno hanno peccato mangiando quale albero quale frutto il melo ma è una posizione molto molto tardiva molto molto tardiva ritorneremo sul senso di questo albero della conoscenza del bene e del male volevo dire alcune altre cose un po' volo d'uccello dicevo il capitolo 3 si divide in peccato processo e condanna noi abbiamo letto e arriviamo un po' più a quello che abbiamo letto che è quello del processo il processo dice Dio interroga come mai vi nascondete e Adamo risponde perché siamo nudi e chi vi ha fatto conoscere che siete nudi avete forse mangiato dell'albero di cui vi ho proibito e qui poi comincia la scarica barili Adamo gioca scarica barili con Eva e Eva gioca scarica barili con col serpente tecnica tecnica di cui siamo bravissimi tutti tecnica di cui siamo bravissimi tutti la 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 condanna poi di Dio è a rovescio parte dal serpente arriva alla donna e termina sull'uomo termina sull'uomo c'è da interessante notare che Dio maledice due cose maledice il serpente e maledice il suolo non maledice Adamo e Eva non maledice l'umanità non ci sono mai parole da parte di Dio di maledizione sull'umanità nella Bibbia nella Bibbia ci sono sempre solo parole di benedizione anche qui che Dio potrebbe dire arrabbiato per il peccato maledice il serpente che poi alla fine il serpente poteva anche essere il più innocente tra i tere perché il serpente fa la la sua parte di tentatore ma l'errore il divieto non era stato per il serpente il divieto era stato di non mangiare dell'albero di Adamo e Eva il serpente non mangia eppure lui viene maledetto e invece viene maledetto il suolo è interessante la maledizione sul serpente non tanto per la maledizione ma ma perché c'è il cosiddetto protovangelo di cui voglio dire una parola il signore disse al serpente poiché hai fatto questo maledetto tu fra tutto il bestiame la domanda che viene perché proprio il serpente e qui ci sono più risposte una risposta è che in tante popolazioni vicine agli ebrei il serpente era visto come una divinità e anche sovente il Baal di cui ce ne avevo prima era visto come un serpente e quindi maledire il serpente vuol dire dir male delle divinità straniere dove occorre salvaguardare l'unicità di Dio tradizione javista siamo tradizione javista che una delle sue caratteristiche ha proprio quella di difendere l'unicità di Dio il nome di Dio e le prerogative di Dio e quindi qui vengono già difese prima ancora che Dio si faccia conoscere tradizione javista forse un altro motivo per cui c'è questo scagliarsi sul serpente non su un altro animale perché poi il serpente è più cattivo degli altri e forse per i motivi che il serpente sembra insinuarsi sembra per motivi eziologici se vogliamo di spiegazione perché il serpente ci spaventa perché il serpente ci coglie di sorpresa ci morde senza che ce ne accorgiamo e via via e quindi forse vuol dare spiegazioni a tante domande che la gente si può fare perché il serpente teniamo presente che nella bibbia il serpente è anche motivo di vita e a volte conosciamo tutti il serpente di bronzo conosciamo tutti che gesù dice quando sarò innalzato da terra e il richiamo è chiarissimo all'esodo e quindi siamo ancora lì quindi il serpente è una posizione anche ambivalente però in questo caso è poi identificato col male identificato con satana col demonio anche se qui di per sé non si parla di demonio e poi la interpretazione successiva che vede in questa figura del serpente il demonio maledetto tu fra tutto il bestiame fra gli animali selvatici sul tuo ventre camminerai polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita io porrò inemicizia tra te e la donna tra la tua stirpe e la sua stirpe questa ti schiaccerà la testa e tu la insidierai il calcagno è bella questa frase perché nel momento di maledizione di condanna c'è una frase di speranza tanto che questa frase viene chiamata protovangelo quasi a dire il primo annuncio del vangelo il primo annuncio della della misericordia del signore la teologia molto posteriore poi ci ha visto in questa donna Maria anche se certamente non è qui Maria certamente non è qui Maria la donna è Eva oppure la donna in generale la donna in generale la porrò inemicizia tra la tua stirpe tutti i serpenti e la sua stirpe che è l'umanità c'è un odio sviscerato tra l'umanità e i serpenti questo ci sta e ti schiaccerà la testa la stirpe dell'umanità sia il modo migliore per uccidere un serpente schiacciargli la testa e il serpente cerca di difendersi azzannando dove può azzannando dove può dicevo sono interessanti anche le condanne della donna e dell'uomo leggo quelle della donna alla donna disse moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze le gravidanze diventano motivo di dolore con dolore partorirai i figli quindi la donna viene colpita in quello che secondo la bibbia più suo essere madre essere madre verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà è una prima parola di maschilismo qua né più né meno verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà e parola di maschilismo gli ebrei l'accettavano questo maschilismo è pur vero che se crediamo in una redenzione la redenzione ridine anche dal maschilismo e quindi se noi siamo figli della redenzione non dovremmo essere figli di questo maschilismo qui all'uomo poiché hai ascoltato la voce di tua moglie hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non devi mangiare maledetto il suolo per colpa tua lo abbiamo già letto e quindi c'è la maledizione la maledizione sull'uomo più che sull'uomo sul suolo e le conseguenze sull'uomo la domanda che viene è che senso ha questo questo racconto che senso ha questo racconto è storia non è storia è avvenuto non è avvenuto perché la bibbia ce lo racconta cosa possiamo dire ma si potrebbe intanto dire che è un tipico racconto eziologico cosa sono i racconti eziologici i racconti eziologici sono i racconti che cercano di far chiarezza sulle cause perché perché il fico alle foglie larghe e allora si può fare un racconto eziologico in cui si dice attraverso una storiella che è il fico alle foglie larghe per mille motivi e ce ne sono parecchi di questi racconti eziologici nelle tradizioni dei vari popoli che non è tanto il racconto che interessa ma è lo spiegare la causa e quindi per esempio a che domanda vuole rispondere il brano del peccato originale la domanda principe a cui vuole rispondere è perché c'è il male se Dio è buono e Dio ha creato l'uomo buono l'ha messo nel paradiso terrestre perché c'è il male da dove arriva questo male una risposta una risposta razionale non c'è allora il racconto dà una risposta se vogliamo attraverso immagini attraverso appunto un racconto che è un modo di dire è un modo di dire è una storia che non interessa tanto la storia quanto dà risposte ai perché faccio un esempio della Bibbia in cui è chiaro così la torre di Babele noi sappiamo del racconto della torre di Babele che hanno costituito questa torre alte fino al cielo e quindi poi Dio perché non si diventasse onnipotente come lui confonde le lingue il racconto della torre di Babele e questo è il senso forse la torre di Babele vuole rispondere alla domanda perché nel mondo ci sono tante lingue se siamo tutti figli di Adamo ed Eva e quindi avrebbero dovuto di padre in figlio di madre in figlio continuare la stessa lingua per parlare tutti la stessa lingua come mai questa pluralità di lingue la risposta non c'è la Bibbia introduce questo racconto eziologico da Torre di Babele in cui si dice per la superbia degli uomini Dio ha confuso le lingue e quindi hanno incominciato gli uni a parlare l'arabo gli altri a parlare un'altra lingua e alla fine non ci si sono più capiti tra di loro ma dà poi l'idea che dalla superbia nasce il non comprendersi che è pure simile quindi questo racconto questo racconto della Bibbia va visto come racconto eziologico che significa non c'è tanto l'attenzione sul fatto quanto sui perché perché il male e poi legato al male c'è anche perché la morte perché la morte perché se Dio è eterno e Dio crea l'uomo verrebbe da dire perché non l'ha creato eterno anche lui vivente per sempre se Dio è Dio dei viventi perché l'uomo deve morire e d'altronde gli ebrei antichi pensavo che l'uomo morisse punto e basta la vita il concetto di vita eterna è un concetto molto più recente un concetto che è avuto fuori poco per volta nel mondo ebraico e poi che il mondo cristiano nostro l'ha fatto suo e quindi per carità noi crediamo nella vita eterna ma di per sé quando sono nate queste pagine nel settimo ottavo secolo avanti cristo sono codificate l'idea che la vita terrena è bella se è lunga ma poi è tutto finito lì poi al massimo si va in una roba generica del regno dei morti ma niente più allora per arrivare a un'interpretazione di questa pagina del peccato originale credo che sia giusto fare primo un passaggio con Romani lettera ai Romani perché San Paolo nella lettera ai Romani la riprende questa pagina San Paolo dice come per colpa di un solo uomo è arrivato nel mondo il peccato e per colpa di questo solo uomo è arrivata la morte così per merito di un solo uomo che questa volta sarà Gesù Cristo è venuta la giustificazione e per merito di questo unico uomo è venuta la 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 risurrezione San Paolo si dilunga adesso non voglio fermarmi lì perché se no parliamo un'altra ora nella lettera ai Romani di questo raffronto con Adamo gli studiosi hanno provato a dire che cosa può consistere questo peccato e l'hanno visto legato al dialogo che non abbiamo letto tra il serpente e la donna prova a dire un po' meglio prova a dire un po' meglio il peccato è incredulità perché quando il serpente si presenta alla donna e gli dice so che Dio vi ha vietato di mangiare di qualunque albero la donna dice no non è vero solo dell'albero della 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 del bene del male altrimenti moriremo se mangiamo di questo di questo albero e il serpente induce induce la donna a non credere dice no non morirete affatto anzi diventerete come Dio conoscitore del bene del male quindi c'è incredulità sia in pratica la donna e poi quindi anche l'uomo ma il dialogo è più con la donna l'incredulità e non credere credere più al serpente che a Dio è invece chiaro che noi dovremmo essere chiamati a credere più a Dio che non al primo tentatore che ci ti passa sulla strada la seconda è la superbia essere come Dio e noi ci piacerebbe essere come Dio onniscienti onnipotenti e il terzo e il terzo peccato che vedono lì dentro è la ribellione quindi Dio ci ha dato un comando io faccio diversamente io faccio diversamente nella storia questo discorso sul peccato originale ha avuto degli sviluppi interessanti nei primi secoli del cristianesimo sono rimaste le parole di San Paolo che ho citato brevemente invece poi c'è stato uno sviluppo storico importante con Sant'Agostino Sant'Agostino stuzzicato in questo caso dal pelagianesimo dove i pelagiani dicevano Pelagio e i suoi sostenitori dicevano che il peccato originale non era tanto un qualcosa che leggo meglio leggo meglio il peccato originale fu dei soli progenitori dice Pelagio quindi solo di Adamo ed Eva non dei discendenti non si trasmette a noi invece la teologia cattolica direbbe che quel peccato in qualche modo si trasmetta a noi poi come era un po' tutto da vedersi ma si trasmette Pelagio diceva il peccato originale è dei soli progenitori non dei discendenti non macchiò la natura umana ne subì le conseguenze sì ne subì le conseguenze che la donna partorisce con difficoltà l'uomo è diventato mortale certo anzi deve tribolare a coltivare la terra e via via porta i vestiti non è più nudo come prima va bene ne subisce le conseguenze però non viene interiormente macchiato tanto che da solo potrebbe da solo potrebbe conservarsi giusto conservarsi santo se vogliamo dire e quindi Pelagio vedrebbe il peccato originale solo come un cattivo esempio Adamo ed Eva ci hanno lasciato un cattivo esempio Cristo a sua volta cosa ha fatto dice ancora Pelagio non ci ha dato una redenzione perché di per sé noi eravamo già capaci di nostro Cristo ci ha dato un buon esempio al cattivo esempio di Adamo arriva il buon esempio di di Gesù Cristo questa dottrina di Pelagio non è non è non è cattolica non è riconosciuta dalla chiesa ma tutte le chiese Sant'Agostino si è opposto dicendo no c'è il peccato di Adamo ed Eva è diventato noi ne siamo partecipi noi ne abbiamo le conseguenze dirette da soli non abbiamo la capacità di di vincere il male abbiamo bisogno di una redenzione che è un po' anche il ragionamento di San Paolo San Paolo dice Adamo ha peccato Adamo ed Eva ha peccato Dio è intervenuto dando la legge al popolo ebraico la legge di per sé è una legge di giustizia e il popolo ebraico aveva l'idea di essere giusti ma chi lo osserva la legge chi lo osserva perfettamente la legge nessuno quindi nessuno è capace di vivere veramente la legge dice San Paolo noi siamo giustificati non per l'osservanza della legge ma noi siamo giustificati per la grazia del Signore e San Paolo su questo si schiera molto contro diversamente dall'ebraismo dove l'ebraismo lidera noi vivendo la legge il più perfettamente possibile siamo giusti davanti a Dio San Paolo dice no non riesci non ce la fai non hai le forze la tua natura umana è così tarata che con le tue sole forze non ce la fai c'è da tenere presente che nella storia poi venendo più avanti i primi protestanti o diversi dei protestanti tipo i calvinisti avevano l'idea invece più grave ancora del peccato del peccato originale l'idea che avevano certi certi riformatori protestanti era l'idea che l'uomo è così tarato che da solo non riesce proprio a fare niente è solo la grazia che salva con le nostre forze non facciamo nulla la chiesa cattolica è sempre rimasta più in mezzo certo c'è la tar del peccato originale ma noi abbiamo anche la forza soprattutto in virtù della grazia del signore di resistere al male e quindi di vincere il male col bene il concilio di trento si è si è si è impegnato in una definizione del del peccato originale ve la leggo che è interessante dice il domma del concilio di trento chi non ammette che il primo uomo adamo avendo trasgredito nel paradiso al comando di dio ha perso subito la santità e la giustizia nelle quali era stato creato ed è in corso per questo peccato di prevaricazione nell'ira e nell'indignazione di dio e quindi nella morte che dio gli aveva prima minacciato e con la morte nella schiavitù di colui che in seguito ebbe il potere della morte cioè il demonio e che adamo per quel peccato di prevaricazione fu peggiorato nell'anima e nel corpo chi non crede sia anatema questo è la pronunciamento del del concilio del concilio di trento cercando di arrivare alla conclusione è difficile definire un po' tutti i connotati però credo che è possibile dire due cose uno è che il racconto del peccato originale cerca di dire il male da dove arriva senza dargli una risposta ma indicando un'idea discorso eziologico mi piace molto quel ragionamento eziologico e poi è pur vero che la situazione del peccato il peccato originale e le sue conseguenze danno motivo della redenzione di Cristo perché Cristo è venuto perché Cristo è morto in croce se il peccato originale non ci fosse stato non avrebbe senso la redenzione di Cristo perché Dio ha creato una volta appunto e basta invece c'è c'è un motivo e noi crediamo assolutamente a questo motivo dell'importanza del fondamento della venuta di Cristo e quindi il peccato è una situazione che abbiamo ereditato dall'umanità poi è difficile dire quando come perché certo ma una situazione di lontananza da Dio di superbia verso Dio chiamiamola pure così usiamo il termine del concilio di Trento di prevaricazione verso Dio che con questa situazione di lontananza Dio ha creato di strategie varie per 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 riportare l'umanità sulla retta via la prima strategia è stato il popolo eletto certo la seconda strategia più determinante è il mistero dell'incarnazione della passione morte risurrezione di Gesù quindi potremmo dire e proprio concludo che il peccato originale è la situazione dell'umanità che dà motivo alla redenzione alla redenzione di Gesù Cristo grazie a tutti voi e buonasera grazie a tutti grazie a tutti